Atm è un'azienda a partecipazione pubblica del comune che gestisce i trasporti a Milano, rischia di essere messa al bando. Nel 2011 27 milioni di italiani con un referendum si sono espressi e hanno bocciato una legge che portava alla privatizzazione di tutti i servizi pubblici, dicendo in buona sostanza che il patrimonio comune dei cittadini deve essere mantenuto tale e non può essere svenduto ai privati. Nonostante questo c'è una campagna fortissima all'urlo di privato è bello per smantellare i servizi pubblici e trasformarli in asset finanziari al servizio di chi vuole soltanto specularci. Come sarebbe composta questa gara di appalto? Rispetto al 2010 quando fu fatta la prima gara d'appalto gli attori in campo sono diversi. Da un lato c'è FS che è già acquisito parte della metropolitana Lilla, quella nuova senza conducente, e da un'altra attraverso Butto Italia sta aggredendo il mercato del trasporto urbano su gomma per i progetti di privatizzazione dell'FS. Insomma rientra tutto in un grande programma di privatizzazione e vendita di azioni, insomma è il pubblico che non vuole più occuparsi di fare trasporto pubblico. Abbiamo una storia lunghissima di privatizzazione in questo paese, abbiamo visto che sono stati tutti dei fallimenti, quindi quello che ci si propone come comitato ATM pubblica è quello di ridare la voce alla cittadinanza e di fare in modo che si apra un ragionamento politico su come debbano essere gestiti i servizi pubblici, escludendo per prima cosa l'accessione ai privati e la privatizzazione dei servizi fondamentali come ATM e ipotizzando delle trasformazioni che permettano anche una partecipazione democratica diretta dai cittadini alla loro gestione. Cosa rischiano concretamente i lavoratori in questa operazione? La prima è la cancellazione dei contratti di secondo livello, sicuramente la perdita di posti di lavoro perché non pensiamo solo a chi guida il tram, ma pensiamo alle manutenzioni che già stanno per essere appaltate, pensiamo ai servizi di tutti i generi, ai servizi che si affiancano e rendono possibile il trasporto pubblico. In una gara d'appalto che non sarà l'otto unico, ma che sarà un vero e proprio spezzatino, definiranno assolutamente la fine dell'ATM come la conosciamo e la fine di un servizio sicuramente progettato e sociale ai cittadini. Cosa succede a Firenze? Succede che qualsiasi cosa, qualsiasi servizio che il Comune di Firenze decide di fare, lo deve pagare. Cioè quando loro sono arrivati, non mi sto a parlare di lavoratori di per sé stesso, di che nel peggiorato livello di lavoro, l'aumento del lavoro loro arrivano, la disdetta tutti gli accordi e se devo bloccare le città per i due giorni eccetera eccetera, è scanzo questa parte lì, vanno sulla parte di servizio tecnico più interessato. Cioè qualsiasi cosa devi fare, loro devi pagare. Il servizio disabili, che facevamo il servizio disabili con i disabili, è stato dismesso. Chi ci rimette sostanzialmente? Siamo noi ci siamo a lavorare e voi che i mezzi li dovete prendere. Sta diventando anche a Firenze, ma spero, ma mi sembra, quando giro l'attricità mi sembra, poi diventa una guerra tra poveri tra chi l'auto lo guida e chi lo deve prendere. E noi a Paullo, Paullese, Paullo Pantigliato, Prischiera, Bologno, da sette mesi non abbiamo più gli autobus alla domenica. Tutto. Sospeso. Sospeso ovviamente, cancellato. Noi abbiamo perso gli autobus perché pare che non c'era stato un interscambio, faregione, ATM, gestione, triangolazione di danari che finiscono in guido, vi mancavano 62.000 euro che possono recuperare l'idea. C'è un po' il servizio. Noi ai due mesi che stiamo lottando, siamo a un punto non più avanti rispetto a ciò che riguarda il nostro livello provinciale, crediamo di essere arrivati a un punto più avanti. Si continua a ripitare i sindaci in piazza, andiamo di assemblea in assemblea nei vari paesi. Il 15 dicembre, ve lo dico, al Capolina della Metropolitana di San Donato, alle 5 di pomeriggio, ci sarà una manifestazione vera e propria. Spesso si dice dietro c'è l'Europa, o meglio, lo vuole l'Europa. Possiamo tentare di identificare un po' questa, dare un volto, tra virgolette, a questa espressione. Dietro sicuramente ci sono i poteri finanziari a cui questi servizi fanno molta gola. Stiamo parlando di servizi a domanda rigida, servizi che comunque devono essere garantiti con soldi pubblici. Però sfatiamo un mito, non è vero che l'Europa ci chiede di privatizzare. Non c'è nessuna legislazione europea che obbliga la privatizzazione. C'è una legislazione europea che dice, nel caso in cui si vuole privatizzare, bisogna seguire certe regole. Ma la scelta politica di privatizzare o meno è lasciata alle singole nazioni e alle singole città. Parlando di trasporto pubblico, per esempio, Parigi ha un trasporto che è al 100% pubblico e non ha nessuna intenzione di privatizzarlo e non lo privatizzerà. Non si capisce perché in Italia ci continua a essere questa retorica per la quale si dice ce lo chiede l'Europa. È interessante vedere cosa dice il trattato e cosa dicono tutte le direttive europee, cosa dicono le comunicazioni della Commissione, cosa dicono le risoluzioni del Parlamento europeo per chiudere la bocca a quelli che parlano di obbligo di liberalizzazione. I servizi di interesse economico generale in Europa sono definiti come quelle attività che seppur a rilievo economico non potrebbero essere fornite a tutti, cioè alla generalità, all'universalità dei cittadini, dal mercato senza intervento pubblico. Cioè è l'Europa stessa che dice quella cosa lì, gli chiamiamo servizi di interesse generale perché lì il mercato non basta, cioè se affidassimo tutto al mercato non verrebbe garantita l'universalità del servizio. Si dice che le imprese che gestiscono i servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme della concorrenza, attenzione, nei limiti in cui tali norme non ostino alla loro specifica missione, che è quella di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione Europea. Quindi il principio di concorrenza di fronte alla missione specifica dei servizi pubblici si arresta, è possibile derogare, tant'è che ci sono una serie di sentenze che confermano proprio questa cosa. Una delle più famose riguarda il servizio postale, era stata promossa una causa contro uno stato che aveva mantenuto l'affidamento diretto del servizio postale ad un'impresa pubblica e per questo aveva previsto anche particolari le condizioni di funzionamento e di finanziamento e la sentenza dice che questi sono servizi di interesse generale, deve essere garantita una loro fornitura universale, attenzione questo lo dice la sentenza, non qualche comunista, indipendentemente dalla loro profittabilità. Ricordo a tutti, il privato non fa servizio con i soldi propri, fa il servizio con i soldi comunque pubblici, fanno gli imprenditori dei soldi altrui.